Buongiorno ragazzi, volevo illustrarvi qualche funzione in più sul nostro sito parlo specialmente per i neofiti che stanno giocando la prima edizione Elefanta Experiment andando sul nostro sito nella home page troverete la sezione ultime notizie che è nient'altro che è presente un riassunto di quello che è successo nella giornata con i commenti generati in automatico dal sito e corretti eventualmente da me scorrendo in basso troveremo prossimo turno mancano appunto con il countdown delle ore che mancano per inserire la formazione e sempre più in basso troverete l'ultimo turno che è il riassunto delle partite come sono finite e cliccandoci sopra sul risultato della partita si aprirà la statistica dei giocatori che voi avete schierato vostri con la media dei due quotidiani Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport e eventuali bonus malus sia vostri e chiaramente del vostro avversario in modo da capire anche come viene calcolato il punteggio e a quanti punti si fa un gol, due gol e altro chiudendo questa pagina con la X in alto si scorre ancora e si trova migliore e peggiore che sono gli allenatori che hanno fatto il miglior punteggio e totalizzato il peggior punteggio di giornata poi abbiamo la classifica e a breve vedremo anche la classifica punti nient'altro che quello che vedete qua insomma questo è lo scontro diretto e la classifica punti è solo la somma dei punti generati da ogni singola partita sempre più in basso troviamo il top player della giornata e realmente era che dira ma siccome noi svegli di questo fantacalcio nessuno l'ha comprato che dira e in questo caso è Ciro Immobile e sempre più in basso record che scorrono a caso e appunto vengono variati dai miglior punteggi da miglior partite vinte, peggior partite perse, insomma altro sempre scorrendo più in basso prossima giornata, gli incontri della prossima giornata e per finire le formazioni inviate per questa giornata questo è il top manager invece che è praticamente la bravura dell'allenatore nel utilizzare tutti i giocatori a 20 voto insomma per esempio se facciamo un esempio qui Dario, l'ultima giornata punti realizzati 75.25, punti potenziali 76.25, 50 scusate quindi io in questa giornata sui 17 punti validi che avevo mi sono perso un punto e 25, nel senso potevo migliorarmi di un punto e 25 è andata peggio per Alessandro che invece poteva fare 8 punti e mezzo in più e in questo caso poteva tranquillamente andare a 74.5 e vincere la propria partita insomma lo proprio scontro diretto contro Danilo con questo è tutto, vi auguro buona giornata ciao amici ciao ciao ciao